5 milioni 225 mila euro, questa la somma per la messa in sicurezza delle strade a Nocera Superiore. La cittadina dell'Agro potrà così mettere in sicurezza le strade del territorio dopo i fatti tragici di domenica notte in cui un giovane ha perso la vita lungo la statale 18. Un milione di euro subito, il 60% entro novembre ed il saldo dopo l'invio del collaudo delle strade. Soddisfatti il primo cittadino Giovanni Cuopano ed il consigliere di maggioranza Giovanni Dacunzi che si è espresso in termini entusiastici per il decreto ministeriale dopo l'assegnazione del contributo. Purtroppo va da parte dell'amministrazione il cordoglio alla famiglia della vittima che si è avuta su questo incidente dopodiché anche in termini di sicurezza con il nostro comando di polizia municipale per quel che ci compete tentiamo di gestire diciamo la situazione delle strade. Questo finanziamento ci consentirà anche di fare altro per quanto ricordiamolo è un finanziamento che interesserà le strade di nostra competenza e non quelle che purtroppo ricadono in competenze altrui spesso da noi sollecitate come ente ad intervenire. È stato premiato uno sforzo che questa amministrazione sta facendo da tempo quella di non accontentarsi di valutare l'ordinario ma tentare di sfruttare tutti i canali possibili per reperire risorse. Lo fa nonostante l'esiguità delle risorse umane che ha a disposizione presso lente lo fa con uno spirito diciamo di servizio forte e oggi credo che questo sia premiato l'impegno di una programmazione seria. Apprendo con piacere che il ministero degli interni ha come dire dato un contributo di 5 milioni e mezzo circa per ripristino delle strade urbane di Nocera Superiore. Credo che sia una cosa ottima, buona per la sicurezza delle strade che ci sono a Nocera Superiore anche dopo gli eventi ultimi che sono successi l'altra sera per esempio sulla nazionale da mettere a posto, da ripristinare un po' il mando stradale e così spero che tutte le strade di Nocera Superiore possano avere questa possibilità di poter mettere a posto queste strade per poter dare una sicurezza anche agli automobilisti, un decoro anche alla città. Giustamente il sindaco fa bene a dire che questa è una programmazione che è riuscita ad ottenere grazie all'impegno profuso dall'amministrazione.